Grazie alle sue azioni, ora Marsara è in aperto conflitto. Comandante, ci sono altri tutorial a sua disposizione. Efficenti. Ci serviranno molti più marine per occupare l'avamposto del dominio. Addestrali alla caserma. Visto che ci siamo, qualche SCV in più velocizzerà l'estrazione dei minerali. Addestrali al centro di comando. SCV pronto! SCV pronto! SCV pronto! Cattive notizie? Che succede? Chi è che vuole prenderle? SCV pronto! Ricevuto! Sarà fatto! Roger! Sicuro, in marcia! Sono necessari altri depositi. Sì, che c'è? Ma bene, come vuole! Bene! Armato è pronto! E' pronto! Garantito! Ma certo! Ampliamento completato! Va bene! Certo, signore! Affermativo! Con piacere! Facciamo le cose per bene, ragazzi! Buia! SCV pronto! Capito! Capito! Intesi! Ecco il dottore! Comandante, il dominio sta attaccando la base ribelle a Sudobos! Bene! Così non ci staranno alle costole! Dai, Cusso! Quella gente ha bisogno del nostro aiuto! Non la lasceremo morire! Siete una gioia per gli occhi! Siamo con voi! Diteci dove andare! Benvenuti a bordo, ragazzi! Sono i ragazzi di Reynor! Fornire i dettagli dell'emergenza medica Deve essere un'emergenza! Spero che ne valga la pena! Reynor è il migliore! Ecco il dottore! Il dominio può andare all'inferno! Sì, signore! Facciamo le cose per bene, ragazzi! È grave? Chi è che... Via, via, via! Sono andati di là! Oh, fantastico! Attenzione! Helion del dominio in avvicinamento! Non vedo l'ora! Ottimo lavoro con quel bunker, Jimmy! Con i tuoi uomini e la mia abilità, faremo grandi cose! C'è l'ora! C'è l'ora! Oh, certo, signore! Che cosa fa? Chi è che vuole prenderli? Chi è che vuole prendermate? Chi è che vuole prendermi? Oh, c'è bisogno di me? Chi è che vuole prendermi? Affare fatto. Certo. Armato e pronto. Con piacere. Chi è che vuole prendermi? Sicuro. In marcia. C'è bisogno di me? Spero che ne valgano a me. Straordinario. Ora che la caserna e la fabbrica sono distrutte, dobbiamo solo ripulire la zona dagli ultimi cani sciolti e possiamo tornare a casa. Intesi. Sì. 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 Sì.